Bene, seconda partecipazione qui al Nidegl, un po' meno felice di quella passata, lo scorso anno fu vittoria con record, quest'anno i fatti parlano, è una grossa debacle, purtroppo dagli europei in poi c'è arrivato qualcosa che adesso cercheremo di capire perché veramente così si fa troppa fatica e non è neanche divertente. Ho provato all'inizio a seguire i due cagnani, sono rimasto terzo fino a un'ora di gara, dopodiché la testa è iniziata a girare e mi sentivo veramente poco bene, l'ho finita per l'onore della gara, anche perché bisognava arrivare in cima perché sennò il treno che torna giù non si prendeva qua sotto e niente, è bello rivedere Franci Puppi tornare in gara dopo le sue grandi sfortune e adesso cerchiamo di capire cosa c'è che non va nel mio corpo e niente, è sempre uno spettacolo qua su, davanti sono degli alieni, mi hanno demolito il record, quindi oggi un'ammazziata in più e niente, ritorneremo sicuramente a Nidegl perché questa gara va onorata al meglio e ci vediamo, speriamo, con risultati un po' migliori nelle prossime gare. Ciao! Ciao!